abbastanza teso, come è giusto che sia? Sorridente e teso, l'aggettivo rassicurante usato da Bernetta credo che sia perfettamente calzante perché l'abbiamo visto fiducioso, una tensione positiva, la tensione davvero che si prova quando si inizia una nuova avventura, quando si entra in ufficio per la prima volta sia da dipendente che da direttore, insomma, lui è davvero il nuovo presidente, davvero il futuro se noi volessimo dare una rappresentazione in immagini del futuro, che è un concetto sempre molto astratto molto complicato da rendere a parole, ecco queste sono le immagini, un'auto, due nuovi proprietari due nuovi dirigenti che escono, che scendono dall'auto e percorrono questo corridoio così carico di storia di passato e di importanza, di prestigio, con uno sguardo fiero, con uno sguardo fiducioso nelle proprie capacità che d'altra parte li hanno portati a compiere un'operazione finanziaria importantissima e nonostante tante difficoltà, quelle che ricordava Mauro in collegamento e dunque ora è tutta discesa quasi, si potrebbe dire, le grandi difficoltà vissute da queste persone negli ultimi due anni, negli ultimi mesi sono finite e adesso inizia una nuova storia, un nuovo capitolo tutto da scrivere perché appunto il futuro ha questo di bello che è sconosciuto e dunque può essere anche bellissimo e speriamo che lo sia, vediamo E' come questa immagine, direi che la vedremo ancora a lungo, con Yongong Li, con alle spalle Casa Milan sono ben 140, ci diceva Benedetta, i giornalisti accreditati per questa conferenza stampa vengono da tutto il mondo, chiaramente si parla su tutte le testate internazionali di questo grande passaggio di proprietà e riporto anche le parole di Mauro Suma c'è grande attesa, c'è grande aspettativa per il futuro Tra pochissimo la conferenza è fissata per le 11, mancano pochi minuti immagino ci possa essere anche qualche fisiologico ritardo di qualche minuto proprio perché c'è davvero una grande ressa, un grande affollamento e quindi ci sta che ci sia un po' di attesa però insomma siamo davvero vicinissimi ci sarà un messaggio in cinese di Li Hoon mi rifaccio la pronuncia di Mauro che non so assolutamente ripetere però magari sarà lui stesso a spiegarci mi attrezzerò in futuro, ci sarà un messaggio nuovo presidente poi la parola passerà a Marco Fassone, amministratore delegato in pectore perché verrà formalmente nominato nel pomeriggio ma di fatto lo è già da questa mattina e da ieri che risponderà alle moltissime domande dei giornalisti di tutto il mondo perché è una trattativa che ha avuto tantissimo seguito e tantissimo interesse in tutto il mondo, su tutti i giornali abbiamo visto anche ieri la stampa e i siti esteri dare uno spazio enorme anche come foto con me...